Approvato il progetto definitivo per la nuova piscina di Cesano Boscone, il prossimo step prevede la presentazione da parte dell'accordata di imprenditori vincitrice del bando di gara del progetto esecutivo che darà in là entro la fine del 2022 alla realizzazione della nuova piscina. Tramite una procedura di partenariato pubblico-privato si è giunti alla firma di una convenzione secondo la quale all'operatore spetterà, oltre al completamento dell'opera, anche la gestione e la manutenzione della struttura per i prossimi 20 anni. Con il voto in giunta la settimana scorsa la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo di rilancio di quest'opera che è praticamente la piscina che i cesanesi hanno tanto desiderato ma che purtroppo è abbandonata dal 2009-2010. Sostanzialmente si procederà all'abbattimento complessivo di tutta la struttura che è rimasta e si darà vita appunto a un nuovo progetto. Crediamo anche che sia uno slancio per noi il superamento soprattutto di quella che fino ad oggi ha rappresentato una specie di maledizione per questo paese perché è dagli anni 70 che si parla di una piscina cesano ma mai di fatto è stata realizzata. E riteniamo anche, anche in virtù della zona in cui quest'opera si collocherà perché siamo sostanzialmente tra i quartieri quindi anche una natura di cerniera rispetto al nostro comune. E quindi crediamo che il suo valore vada al di là della semplice fruizione sportiva ma che impatterà in maniera molto positiva sul benessere e sulla vita di tutta la nostra comunità.